Ad Ortona tornano le giornate tostiane con un doppio evento che vede protagonista l'istituto comprensivo Francesco Paolo Tosti, scuola in dirizzo musicale. Due intensi appuntamenti per ricordare il musicista e compositore ortonese a 175 anni dalla nascita e a 105 dalla scomparsa avvenuta il 2 dicembre del 1916. Questa mattina durante la manifestazione ospitata dal teatro è trasmessa in diretta streaming sul canale youtube di Reteotto, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Luca Menna ha evidenziato che l'iniziativa ha un grande rilevo storico, didattico e sociale e ha rimarcato il forte legame tra scuola e territorio. È stata un po' l'occasione per mettere insieme tutte le realtà del territorio che fanno riferimento a Francesco Paolo Tosti, la nostra scuola che è intestata appunto intitolata Francesco Paolo Tosti, l'istituto nazionale tostiano che è un altro fiore all'occhiello della nostra città e le realtà che sul territorio fanno musica, la banda della città di Urtona, l'orchestra sinfonica Tosti, tutte le realtà che messe insieme sono in grado di produrre quel legame fondamentale che ci deve essere tra la scuola e il proprio territorio. La scuola non può essere un qualcosa che guarda a se stessa, guarda dentro di sé, ma deve essere una realtà aperta al territorio e pronta a legarsi con esso e a creare quelle sinergie che poi sono alla base dell'esistenza stessa della scuola e di tutto ciò che ruota attorno alla scuola stessa. L'evento presentato dalla docente Barbara Veri ha avuto il patrocinio della struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della presidenza del consiglio dei ministri del comune di Urtona e il contributo del consiglio regionale. Il presidente dell'assemblea regionale Lorenzo Sospiri ha invitato gli studenti a conoscere la storia e i personaggi che hanno dato lustro all'Abruzzo. L'ugurio è che loro siano sempre orgogliosi della propria terra, che ne conoscano i figli più illustri e che possano, possiamo noi dargli l'opportunità di crescere qui, lavorare qui, fare famiglia qui e far crescere e rinnovare questa regione, sapendo che questa è una terra che ha dato ai Natali a tanti geni e personaggi ispirati, tra cui appunto Tosti. Nel pomeriggio di oggi, sempre al Teatro Tosti, alle 17, gran concerto Tosting to Tosti, con musiche del compositore ortonese e autori vari, eseguite dall'ensemble docenti dell'indirizzo musicale dell'istituto comprensivo, dal coro della scuola secondaria di primo grado, dall'orchestra dell'indirizzo musicale, dall'ensemble dell'orchestra sinfonica Francesco Paolo Tosti di Ortona e dalla banda Città di Ortona. Sabato 4 dicembre ci sarà l'inaugurazione di una targa commemorativa del luogo natale di Francesco Paolo Tosti. Nel pomeriggio, le 17, all'auditorium Polo Eden saranno presentate le attività artistiche degli alunni. Gli studenti della scuola primaria si cimenteranno in un balletto can-can e brevi sketch. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado porteranno in scena lo spettacolo teatrale su Francesco Paolo Tosti dal titolo Il sogno di un musicista. Infine le esibizioni dell'orchestra dell'indirizzo musicale dell'istituto comprensivo, dell'ensemble docenti e del coro della scuola secondaria di primo grado.